Nero Indelicato, sono in arrivo in questi giorni ancora pagamenti, cartelle relative all'anno 2015, molti agricoltori, molti utenti ovviamente lamentano ancora aumenti, ma la situazione è molto più intricata di quello che sembrerebbe in teoria. Sì, noi proprio su questo tema, proprio ieri sera, abbiamo fatto un incontro come Agri Insieme, quindi tutte le organizzazioni di Agri Insieme, con luci e come tante spontanee per fare il punto della situazione e ribadire quali sono le nostre ragioni, perché il ruolo 2015 che doveva arrivare a febbraio per come sta arrivando ed è già arrivato, noi non lo sapevamo e l'abbiamo detto, badate bene, l'aumento del sotteso, o per meglio dire della bonifica, è stato del 325%, da 20 euro a 85 euro ad ettaro o frazione con la bocchetta, va bene, significava questo, significa mediamente un incasso solo per l'Ex Agrigento 3 di circa 3 milioni di euro contro un anno intero di erogazione di acqua, va bene, che paghiamo mediamente 21, tipo l'anno scorso nel 2019 o 23 centesimo con qualche intervento ogni tanto, va bene, di circa 2 milioni e 2, 2 milioni e 300. Quindi questo terreno che ce lo hanno affittato praticamente, la regione siciliana e il consorzio di bonifica per una esigenza di bilancio ci affitta il terreno e il terreno ha un costo maggiore del costo del servizio dell'acqua, quindi è una contraddizione. Ma al di là di questo, noi abbiamo detto a chiara lettera e lo ribadiamo, va bene, che noi non siamo disposti perché non è una cosa sostenibile, non è una cosa corretta, non è una cosa accettabile sotto tutti i punti di vista, va bene, di pagare un aumento della bonifica del 325%, perché nell'anno normale 2020, noi dobbiamo fare anche alcuni conti, molto sinteticamente, abbiamo l'annata corrente del pagamento dell'acqua e ancora non si sa se sarà riconfermata a 21 centesimi al 100% di pagamento, il sotteso che sarà 80 o 85, perché non sappiamo se viene riconfermato, perché hanno deliberato a 85, ma l'hanno fatto pagare a 80 nell'anno 2019 in virtù di un pagamento al 100%, diciamo un ragionamento economico, l'oro, tutto l'oro. E quindi c'è l'annata corrente, va bene, dopo di che c'è il recupero del 2015, che sono esattamente 2 milioni e 700 mila euro circa, Sciacca ad esempio, solo il territorio di Sciacca dovrebbe pagare per l'anno 2015 esattamente 362 mila euro, da 90 mila euro passa 362 e così via anche altri comuni, Menfica, Salvetrano e altri comuni ancora, diciamo, dove il territorio l'agro comunale è più interessato. Quindi arriverà il 2020, debbono pagare, il 2015 che sta arrivando, i morosi, che ci può anche stare, però è un aggravio tutto assieme, entro giugno arriva questo, si dice che aprile-maggio dovrebbe arrivare il 2016 come sotteso, sempre il doppio rispetto a quello che è in aggiunta a quello che sta arrivando nel 2015. Per accorciare i conti, se noi facciamo una media, se un produttore paga mille, dovrebbe andare a pagare entro la fine dell'anno 3.500-4.000 euro. Questo che significa? C'è in un'annata dove già l'inizio è quello che non piove, le difficoltà, irrigazione di soccorso e quant'altro. Ebbene, è che uno paga, mettiamo, è un'azienda poi di una certa dimensione, con certe culture, 3-4.000 euro normale di annata d'acqua, con le differenze deve mettersi da parte, se ce l'ha, se ce l'ha, va bene, 10.000 euro, 8-10.000 euro. Questi sono i numeri. Numere che noi contestiamo, al di là di questo fatto, per far capire un po' la dimensione, noi siamo sempre fermi come Agri Insieme, con i gruppi spontanei e con Luci, noi siamo sempre fermi sul fatto che non c'è nessuna giustificazione di bonifica. Cosa hanno fatto dalle 2013 ad oggi per giustificare un aumento così fatto? Solo un'esigenza di bilancio e solo una tragedia che l'ha generata è il governo Crocetta, con l'articolo 47,11 all'interno della legge finanziaria, che è andato a decurtare quel contributo di alcune voci del 95% e a zerarlo entro il 2021. Quindi il 2020 dovrebbero aumentare ancora le cose e il 2021 ancora, ancora. Ma i governi che si sono succeduti parlano, parlano, parlano e sono aria al vento, sono parole buttate al vento e aria fritta, come si sol dire, perché praticamente non riescono a trovare, a reperire i soldi e a fare un esame di coscienza. Chi ha gestito i consorzi di bonifica dalle 95-97 ad oggi? Le ha gestite la regione siciliana con i commissari. I commissari hanno gestito, hanno avuto il governo e hanno avuto per il governo di tutti i consorzi di bonifica il supporto dei tecnici e dei funzionari incaricati dei vari settori. Punto. Noi siamo sempre fermi al fatto che l'agricoltura ha bisogno dei consorzi di bonifica come dell'ESA e come degli altri enti preposti. Ma ci dobbiamo capire. Tu non puoi amministrare per 30 anni per non andare molto indietro prima della legge 45. Dopodiché tu hai un disavanzo ufficiale. Giorno 5 di novembre un incontro ufficiale alla Presidenza con l'assessore all'agricoltura e i funzionari incaricati, anche Dario Caltabelotto, dove si dice che i consorzi di bonifica in Sicilia hanno 100 milioni di debiti di pergresse, eccetera, chi avanza una cosa, chi un'altra cosa, eccetera, è una stima di altri 100 milioni di euro del contenzioso aperto. Perché se tu vai a vedere che tipo di contenzioso c'è ai consorzi di bonifica tu resti a bocca aperta e non hai delle risposte, non c'è giustificazione, non c'è giustificazione. Quindi c'è una situazione che è esplosiva e tu parli poi di sviluppo, di agricoltura, di lavoro, parli di eccellenza, eccetera, e non entriamo in altri campi sui ritardi dell'intervento, diciamo, delle politiche per quanto riguarda la Comunità Europea, in modo particolare PSR e quant'altro. Questo è il discorso. Noi dobbiamo trovare delle misure e delle cose dove si riducono ai minimi termini i costi, diciamo, scellerati e che non ha fatto sicuramente il produttore. E in modo particolare il produttore dell'ECS Agrigento 3 e dell'ECS Basso Bellice Carboi che paga al 90% o al 100%. Tutto quello che è stato richiesto dal 2012-2013 ad oggi. Quindi è sfido chiunque a entrare nel merito. Ripeto, noi come Agrinsieme abbiamo fatto un incontro ieri sera, va bene, e già a metà settimana entrando avremo le idee chiare di quali saranno le iniziative da portare avanti. Se mi consento un'altra precisazione. Alcuni si sono organizzati, tempo fa, per quelli, diciamo, che avevano importi un poco più importanti, va bene, anche con dei ricorsi. Ebbene, questi ricorsi non sono accolti ma non sono respinti. Nel senso che qualcosa va nella direzione giusta, nel senso che non c'è una giustificazione oggettiva e plausibile di giustificare quel tipo di aumento. Una domanda relativa soltanto al Consorzio di Bonifica. Oltre a debiti e costi vari, bisogna dire che questo Consorzio non è uniforme in tutto il territorio, ma in un certo senso fa frazionamenti e figli e figliastri. Su questo non ci piove. Il giorno 4 di novembre il Presidente Musumeci ha detto che per avversità atmosferiche, per disagi di commercio e quant'altro, per una situazione oggettiva che si trova nel mondo agricolo siciliano, doveva andare a recuperare 30-50 milioni per decurtare e abbassare ai minimi termini a determinati costi. All'interno di questi c'erano anche, diciamo, il sotteso, quindi la bonifica. Ebbene, questi quattro anni erano 19, 2018, 17 e 16. Intanto tutto questo ragionamento, dal 13 al 15 noi siamo rimasti fuori. Per il resto, va bene, invece il discorso è stato diverso. Hanno autorizzato, per far pagare meno l'acqua, di fare dei prestiti. Ma il problema qual è? Questi prestiti, chi li paga? La Regione non ha uscito nemmeno un centesimo dal bilancio e dalla Cassa regionale. La domanda, io non voglio scappare perché c'è un dato obiettivo. Nemmeno fra i consorsi, non solo fra i consorsi, c'è difformità. Perché chi ha emesso il ruolo, chi non l'ha emesso, chi ha l'acqua di irrigazione, chi ha l'acqua potabile, ci sono servizi diversi. Ma nemmeno all'interno di alcuni consorsi di bonifica, uno di questi è l'ECS Agrigento 3. Ad esempio, nell'ECS Basso Belice Carboi, per capirci, l'acqua è automatizzata, l'acqua viene controllata, c'è un contatore. In altre aree, Ribera non è un ragionamento di contro, ma per far emergere dei dati obiettivi, l'acqua viene data in maniera diversa di come viene data all'interno dell'ECS Basso Belice Carboi. E così via in tutte le altre parti. Ad esempio, loro hanno aumentato il primo anno d'aumento 2013, la bonifica, quindi il sotteso, da 20 euro a 48. Trapani 2, va bene, lo ha pagato e lo paga a 45 euro ad ettaro. E noi ora lo portiamo a 85, quindi c'è una difformità che parte da una responsabilità che hanno i singoli consorsi, quindi gli 11 consorsi o X11 consorsi gestiscono autonomamente i costi complessivi dei vari servizi che danno. E poi si trasformano questi in un costo nel sotteso, quindi nella bonifica, e nel costo dell'acqua. Ma se l'80% arriva per caduta naturale, e quando c'è scarsezza, quando c'è poca acqua, diciamo che si deve sopperire per riempire il lago arancio, si arriva ad avere l'acqua dalla garcia. Quindi non è ogni anno, non è per tutta la quantità. Quindi io vorrei capire se noi dobbiamo fare un ragionamento nel merito reale dei costi, anche perché l'agricoltura è diversa all'interno delle aree del perimetro in rigua. Noi lo vediamo anche all'interno di Agrigento 3, a Ribera ci sono più agrumete e meno altre cose, va bene. A Sciacca c'è una diversificazione delle culture, a me invece c'è più vigneto e così via. O Castelvetrano ci sono le vete che, se noi andiamo a vedere l'area in rigua, vediamo che Castelvetrano ha una superficie in rigua di 7.612, come sotteso, e di 2.597 potenzialmente di superficie in rigua. Quindi noi dobbiamo entrare nel merito per capire se i numeri sono giustificati. E dobbiamo entrare anche nel merito, non per fare un ragionamento di colpolizzare qualcosa e qualcuno. Non è questo, verrà a mancare il momento di arrivare a questo, di come continuano a essere gestiti i contorsi di bonifica. C'è una cosa utilissima, diventa un danno per il mondo agricolo e per gli agricoltori che portano avanti le proprie famiglie, va bene, con la produzione, diciamo, economica che hanno nelle proprie aziende. E noi conosciamo il territorio, noi abbiamo piccoli e medi, diciamo, produttori. Qualcuno è più grosso e ben ci sta, va bene, ma il piccolo per il piccolo e il grosso per il grosso vive lo stesso dramma. Grazie. Grazie.